Mi chiamo Stefano Gatti, sono direttore generale per la cooperazione e lo sviluppo del Ministero Affari Esti. Come possiamo unire la moda e la sostenibilità lavorando in tanti paesi, ma compreso nei paesi in via di sviluppo. Quindi noi eravamo qua per raccontare come facciamo una serie di progetti insieme con la FAO che valorizzano le esperienze, le tradizioni delle popolazioni indigenze in una serie di paesi del mondo nella produzione di materiali per la moda, tessuti e altre cose molto importanti. Quindi con importanti anche designer italiani e stranieri e questo è un esempio di un evento importante come FIGITAL che unisce le capacità della moda italiana con la nostra proiezione e cooperazione dei paesi in via di sviluppo. Siamo impegnati in Africa dove i giovani sono creativi, sono tantissimi e quindi lavoreremo anche su questi progetti con i paesi africani.